Il momento del centro-destra giuliese in un momento particolare della città nel post-elezioni regionali e nel pre-elezioni comunali? Noi siamo sereni, siamo al lavoro da quattro anni e mezzo, stiamo dando un'alternativa alla città, un'offerta politica differente. Le elezioni regionali hanno fatto venire fuori un numero da Giulianova per tutto il centro-destra interessante e quindi attendiamo fiduciosi quelle che sono le elezioni comunali. La grande percentuale di voti che ha preso la Lega Nord a livello regionale può in qualche modo dare fastidio al centro-destra giuliese oppure può dargli una mano per far sì che le elezioni virassero in un modo importante? Io vedo la Lega come un alleato naturale della coalizione di centro-destra. A Giulianova ha fatto un ottimo risultato perché fondamentalmente gravitavano due candidati della Lega, che sono Simona Cardinali e Gianni Mastrilli, quindi hanno fatto un'ottima performance. Noi, ripeto, siamo sereni, tanta gente ci dice di andare avanti, il centro-destra Giulianova è sano, è vivo, è vegeto e per cinque anni ha battagliato contro un'amministrazione come quella di Mastromaro che è stata disastrosa. Su cosa punterà, quantomeno se non ce ne resta, o meglio Forza Italia in queste elezioni comunali? Forza Italia, l'Associazione Verso e le altre liste civiche che più o meno fanno capo alla mia persona punteranno a fare una coalizione liberale, cattolica e liberale, credibile che possa rappresentare un'alternativa al centro-sinistra insieme a tutti gli altri sedendoci attorno a un tavolo in maniera democratica. Ivan Costantini ha già scelto il candidato per il centro-destra? Ma io sono a disposizione dei miei cittadini, l'ho sempre fatto e lo continuerò a fare, sono a disposizione dei miei cittadini, quello che i miei cittadini chiederanno io farò, non sarà sicuramente un politico terramano, un politico rosetano, un politico vibratiano a scegliere quello che farà il centro-destra Giulianova. Grazie 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 Grazie